Si sono conclusi proprio nell'ultimo weekend gli screening a Cepagatti, situazione sindaco in questo momento com'è? Dunque la situazione attualmente è un po' preoccupante, dagli screening abbiamo fatto 1400 screening dei tamponi, però sono risultati positivi 9 persone, però dopo questi screening abbiamo avuto tantissime comunicazioni da parte della ASL di positività. Voglio far risaltare che a livello di screening è vero che la popolazione scolastica non ha partecipato assiduamente, perché hanno partecipato soltanto 400-500 ragazzi, gli altri erano persone adulte. Ecco perché noi adesso provvediamo alla chiusura delle scuole, già abbiamo provveduto alla chiusura delle scuole perché il numero dei positivi sul territorio è alto, per cui riteniamo di prorogare l'ordinanza di chiusura che ho fatto l'altra settimana, di prorogarlo forse fino al 28. Stiamo in attesa dei risultati della ASL, la ASL ieri sera insieme al prefetto ha fatto una riunione e stiamo aspettando la decisione della ASL per far sì di fare l'ordinanza. Io dopo l'ordinanza che aveva fatto il sindaco Mascio ho ritenuto di fare anch'io l'ordinanza perché appunto i dati che arrivavano sul territorio erano un po' allarmanti. Di fatti già ieri abbiamo avuto la comunicazione che abbiamo avuto sul territorio 22 positivi, per cui ecco sono dati che fanno riflettere e pensare alla salute della popolazione è la mia preoccupazione. La cittadinanza diciamo non è che è un po' preoccupata, però anche perché io capisco loro che tenere i bambini, i ragazzi a didattica a distanza è problematico, però ecco come dicevo prima in primis salvaguardare la salute è la cosa che più mi interessa.